Ciao a tutti, sono Marco Tognolo di MTB Mag. Oggi ci occuperemo della nuova BMC 4struck, la bici da cross country della casa svizzera, full suspended e con una grossa particolarità, cioè il reggisella telescopico integrato RAD. Questo reggisella telescopico è meccanico, ha 80 mm di escursione e può essere regolato di 90 mm sulla sua altezza, nel senso per regolarlo a seconda di quanto è alto il rider, tramite una vite posta in basso sul tubo piantone. Si tratta di una bici completamente in carbonio, con ruote da 29 pollici, sospensioni Fox, bloccabili da manubrio, tramite un comando remoto apposito. Questo comando remoto ha tre gradini, diciamo, a tre livelli, tutto aperto, trail e tutto chiuso. La leva superiore è quella pensata per chiudere le sospensioni, quella inferiore per poterle aprire. Il suo funzionamento è preciso e molto facile da sentire anche con i guanti invernali, quindi non ci sono pericoli di azionare il comando remoto senza accorgersene. Sotto il comando remoto delle sospensioni troviamo quello per il reggisella telescopico e questa combinazione rende un attimino un po' complicato all'inizio coordinarsi fra i due comandi per ricordarsi, soprattutto in azione, quale si sta attivando e quale no. Dicevo che il telaio è completamente in carbonio, pensato e dedicato solo al monocorona. In carbonio è anche il linkage fra il carro posteriore e il triangolo anteriore. L'ammortizzatore, come potete vedere, ha l'attacco Trunion, pensato per tenere il più piccolo possibile le dimensioni dell'ammortizzatore. La vera novità per quanto riguarda questa bici sono le geometrie. Geometrie che quasi sfociano in quelle di una trail bike. Infatti troviamo un angolo sella di 75,6 gradi, quindi piuttosto verticale, un angolo sterzo piuttosto aperto da 67,5, un carro posteriore corto da 429 mm e un reach, questa in taglia M, come questa bici, di 445 mm. A ciò si aggiunge un attacco manubrio piuttosto corto da soli 6 mm. Quindi è un po' in controtendenza rispetto alle full cross country che troviamo di solito in Coppa del Mondo, perché ricordo che questa bici viene usata dal team BMC in Coppa del Mondo di cross country. Per quanto riguarda le ruote sono delle DT Swiss XRC 1200 Spline in carbonio, quindi dal peso di circa un chilo e mezzo, su cui sono montate delle gomme Vittoria Barzo da 2,25, entrambe latticizzate. Le ruote sono leggere, scattanti, hanno una bella impressione di robustezza anche, e hanno un mozzo posteriore con una ruota libera Star Ratchet, quindi con 54 punti di ingaggio, cosa che viene molto comoda quando si deve dare il colpo di pedale per uscire da un tornantino o da qualche situazione difficili. Le gomme vanno bene fin quando il terreno è asciutto e secco, ma quando ho dovuto girare col bagnato ho avuto qualche problema di tenuta, sia al posteriore a livello di trazione, quindi in salita sui sentieri tecnici, sia in discesa all'anteriore perché tende a scappare via piuttosto velocemente. Vediamo ora come va sul campo. In salita, pesando solo 10 kg, una volta chiusa le sospensioni e una volta che si spinge sui pedali si sente subito che la bici è leggera, reattiva, scattante, insomma una vera bici da cross country. Tenete anche presente che questo è il top di gamma di BMC, quindi è il modello più leggero e meglio allestito. L'altra cosa interessante comunque è che una volta aperte le sospensioni quella posteriore lavora bene copiando bene il terreno, le piccole asperità e quindi sia nella posizione trail, quindi quella intermedia, che quella completamente aperta copia bene e soprattutto non oscilla, quindi le dispersioni di energia sono veramente minime. Questa caratteristica fa sì che uno possa lasciare le sospensioni aperte sui sentieri tecnici senza doversi neanche preoccupare di chiuderla o di metterla in posizione trail. Io infatti personalmente ho lasciato quasi sempre aperto le sospensioni una volta che arrivavo sui sentieri dove mi interessava più avere trazione. La posizione in sella è centrale ma appunto dato il reach lungo, l'attacco corto e il manubrio largo, infatti parliamo di 750 mm, il busto del biker si trova piuttosto in avanti, quindi il peso è già in avanti di suo senza bisogno di andare troppo in punta di sella quando ci si trova di fronte a delle rampe. Questo fattore è veramente bello, interessante perché dà la possibilità al biker di stare seduto sempre centrale sulla bici e di concentrarsi sul riding piuttosto che non dover combattere contro la ruota anteriore che si alza quando il terreno diventa ripido. In discesa sono rimasto molto sorpreso dalla Force Rock perché è veramente un missile, diciamolo chiaramente, anche sui sentieri tecnici. Per essere una bici da cross country con soli 100 mm di escursione davanti e dietro va alla ultra grande. Le sospensioni sono belle sensibili e soprattutto progressive alla fine della corsa, quindi essendo la escursione così poca non si rischia di fare dei fondocorsa che scomporrebbero sia il biker che la bici. Dicevo che in discesa sono rimasto sorpreso per le sue prestazioni, sia per le sospensioni, sia per la geometria di cui ho parlato prima, ma anche appunto per il raggiosella telescopico che lascia spazio ai movimenti del busto e del corpo avanti e indietro senza avere la sella di mezzo. 80 mm non sono certo tanti, ma sono bici da cross country che secondo me sono più che sufficienti. Il funzionamento di questo raggiosella telescopico è piuttosto semplice perché è meccanico, quindi per regolare la velocità di estensione si andrà ad immettere più o meno aria nella camera, la cui valvola si trova sotto il clamp della sella, poi appunto si azionerà tramite il comando remoto manubrio. Ho notato che il reggisella ha un po' di gioco da tutto esteso se da fermi si prova a far girare la sella. Una volta in bici questo gioco non si nota che quando sotto tensione, quindi quando uno è seduto in sella, il comando remoto diventa un attimino duro da azionare e quindi sarà necessario alzarsi leggermente per poter sbloccare completamente il meccanismo. Quindi tornando alla discesa, posso dire che la Fostrock è facile da girare grazie anche ai suoi foderi posteriori corti, è però anche stabile sul veloce, intendiamoci, parliamo di una bici da cross country di 100 mm di escursione, quindi non di una trail bike o di un enduro, ma comunque dà sicurezza, sicuramente molto di più di tante altre bici da cross country che conosco. I freni level con dischi da 160 mm, sia l'anteriore che il posteriore, ovviamente possono costituire un limite quando le discese diventano lunghe e tecniche, perché i dischi così piccoli tendono a surriscaldarsi prima. Davanti ci sarebbe bene un disco da 180, nel caso uno si muova spesso su terreni alpini. I dettagli che mi sono piaciuti, uno è il misuratore di sag posto sul fodero alto del carro posteriore, è facile quindi misurare il sag senza dover neanche chinarsi a guardare lo ring. Il secondo è il tendi catena montato di serie ed è attaccato direttamente al telaio della Fostrock. Il terzo dettaglio che mi è piaciuto molto è il blocco della serie Sterzo, che fa sì che il manubrio non vada a toccare il tubo orizzontale, anche se nel caso della Fostrock la distanza fra i manettini, le leve freno e il tubo orizzontale è piuttosto marcato. Un dettaglio che non mi è piaciuto sono i due comandi remoti posti uno sopra l'altro sulla parte sinistra del manubrio. Non sono molto belli da vedere insieme e rendono il riding un po' più confusionario all'inizio quando non si è abituati ai due comandi. Infatti bisognerà pensare a cosa si starà attivando e questo non è molto facile da fare nella concitazione per esempio di una gara ma anche di una normale uscita su un sentiero. Per i dettagli su geometrie, allestimenti e prezzi rimando al link che trovate qui sotto. Ricordatevi poi di sottoscrivere al nostro canale YouTube e di cliccare sulla campanellina che trovate qui in modo da ricevere una notifica quando pubblichiamo un nuovo video. Le conclusioni. La BMC Fostrock è una bici da cross country che rompe un po' gli schemi. Una geometria aperta, lunga e soprattutto un legge registrella telescopico integrato fanno sì che sia una bici che si presta molto bene a percorsi tecnici sia cross country sia a gran fondo se mai ce ne sono di tecniche e non disdegna neanche i giri non competitivi su trail appunto tecnici alpini. Il registrella telescopico integrato può far storcere il naso a chi non lo vuole usare perché essendo di sezione ovale non permetterà di essere sostituito da registrella che si trovano sul mercato. Grazie per aver guardato questo video ci sentiremo al prossimo test.